Il produttore discografico tecnico del suono britannico, uno tra i più noti della scena hard rock e heavy metal internazionale, si è spento all'età di 71 anni. Ha collaborato con band come The Purple, Black Sabbath, Iron Maiden e Pick of Me. Il produttore, ritirato dalla scena musicale nel 1992, vanta di avere prodotto album iconici tra i quali Heaven and Hell, Mob Rules dei Black Sabbath, Killers e Fear of the Dark degli Iron Maiden. Grazie per la visione!